Trattare non solo i sintomi ma anche le cause della maculopatia senile umida. Ora è più facile grazie a una molecola, il Brolucizumab, dotata di una superiore capacità di controllare il fluido retinico. Ne abbiamo parlato a Milano con il professor Federico Ricci. Cos'è il Brolucizumab e qual è il suo meccanismo di azione? Il Brolucizumab è un nuovo inibitore del VGF ad uso intravitreale. Viene usato, attualmente registrato negli Stati Uniti, per la terapia della degenerazione maculare senile e sudativa. Le caratteristiche di questo farmaco sono le piccole dimensioni della molecola per cui è molto diffusibile e quindi riesce a bloccare non solo il VGF in soluzione nei fluidi oculari ma anche il VGF imbrigliato nella matrice delle cellule della retina e quindi è altamente efficace. In cosa differisce rispetto agli altri farmaci della stessa classe? Sostanzialmente i farmaci della stessa classe sono o anticorpi monoclonali, quindi sono molto grandi oppure sono delle affrazioni di anticorpi monoclonali oppure sono delle cosiddette trappole per il VGF, il VGF trap. Il Brolucizumab differisce dal fatto che è una molecola molto piccola e quindi ha una sua particolare cinetica per cui diciamo che permea bene i tessuti retinici, viene eliminata rapidamente addirittura per via renale. Che risultati clinici consente di ottenere? Da quelli che sono gli studi clinici registrativi abbiamo visto che questo farmaco è intanto non inferiore rispetto al suo comparatore ma ha anche un plus nel senso che riesce a gestire i pazienti in fase di mantenimento con iniezioni, con intervalli trimestrali almeno nel 50% dei casi. Quindi dopo la fase da carico questo farmaco nella metà dei pazienti che abbiamo reclutato nelle nostre sperimentazioni è stata una sperimentazione a livello globale per la registrazione FDA, nel 50% dei pazienti è bastata un'iniezione ogni tre mesi per consolidare i risultati che si hanno dopo la fase di carico. Ogni quanto va somministrato? Nella prima fase, la fase d'attacco va somministrato ogni mese, quindi per due mesi, tre iniezioni dopo di cui viene somministrato trimestralmente. In quella percentuale ridotta dei pazienti in cui la somministrazione trimestrale non è sufficiente si ritorna indietro a una somministrazione bimestrale. Ma in linea di massima la somministrazione trimestrale in fase di mantenimento ha dimostrato di avere un ottimo effetto di inibizione e la produzione del fluido sottoretinico quindi questo è indice che il blocco del VGF è potente e duraturo nel tempo. Quando potrà essere disponibile per i pazienti italiani? Ci vorrà ancora qualche anno penso, perché come le dicevo il farmaco è stato recentemente, proprio da giorni approvato per l'uso clinico negli Stati Uniti da FDA, quindi bisognerà aspettare che prima il dossier arrivi al regolatorio europeo, cioè EMA e poi l'AIFA che di solito recepisce le decisioni del regolatorio europeo e ne contratta poi anche per motivi correlati al costo del farmaco, ne contratta l'introduzione nella pratica clinica. Quindi io penso minimo un anno, probabilmente un anno e mezzo, due anni.